C'è casino qua, adesso facciamo la recensione di MDL7, vediamo un po' Ah, devo fare anche la live su Facebook Don, Donato, Donato è sparito Donato, è sparito il produttore Stiamo attendendo allora il produttore che arriva Vai, Donato, hai il sapone di MDL7, sto registrando Sto registrando Ti capi? Sta arrivando Eccolo qua allora, MDL7, poi abbiamo il titolare di X-Trogett Ciao a tutti ragazzi, siamo amici noi Io sono quello basso Devo mettere, aspetta che, dovevo posizionare il... Io l'ho provato a mettere Non infierire però Ah, non infierisco Io sono troppo, sono praticamente... Non va bene così Comunque questo qui è il cofanetto MDL7, questa è una nuova, diciamo, confezione che tu hai ideato Si, che tra l'altro utilizzerai anche per le altre serie, naturalmente, non solo MDL ma le altre serie proprio X-Tro di tutto il negozio Cosa facciamo? Lo vogliamo provare? Certamente Facciamo un test allora Allora, innanzitutto questo, eh, finalmente lo diciamo È MDL Sunrise Sunrise ispirato al noto Long Drink, eh, Tequila Sunrise Che vi accompagnerà, ci accompagnerà durante tutto l'inverno Perché ormai siamo abituati ad avere un po' di stagionalità, no? Nell'MDL Questo ha una tonalità calda, quindi ha una... Questa è la nuova confezione con il tappo nero Con le scritte in nero, ma anche prima erano in nero Sempre stati così Non ve le ricordo male o male Vedi che sono... È solamente la settima edizione Non infiedire però Oh, la settima edizione comunque La settima edizione Allora, quindi è ispirato al Long Drink Tequila Sunrise E sa proprio di Tequila Sunrise Non che vi riporti alla Tecchina Fragola Fragola, quindi Cioè, non è che dopo andate in giro come degli ubriachi, chiaramente No, no Però richiama molto il cocktail Caldissimo E poi Sunrise L'alba Perché dopo quando ci facciamo la barba E' l'alba praticamente per noi, no? Allora, adesso lo andiamo a provare Ho messo intanto a bagno un pennello che non è mio Perché io ho tanto di pennelli che mi frego sempre ai titolari Questo è mio Quello è suo Un regalo di Max E' un Nero Ardesia Che non ricordo come si chiami Comunque So che questa parte è di vetro di Murano Sì, è Murano Ardesia classica Le lavorazioni di Max Ardesia e ciuffo, tasso, silver tip Chiaramente E adesso lo andiamo Lo andiamo a rodare giustamente, no? Questo qua bisogna spingere Bisogna spingere in basso il manico per non strappare i peli del ciuffo Se riusciamo a farlo sempre meglio Allora, visto che l'acqua non ci serve Qua lo posso uscire Questa è la nostra postazione per la nuova barberia A mezzo Allora, ti frego sempre Una piccola quantità Che strano, eh? Adesso i saponi comunque vedo che Fanno molta più schiuma di una volta Di... Tre anni fa E' aumentato Senz'altro le basi grasse Ok Basi grassi Sempre basi vegetali Chiaramente all'interno Basi vegetali E si aumenta di più la consistenza della crema da barba Quindi montiamo Dentro questa crema da barba ci sono i tre componenti che stiamo utilizzando Cioè, stai usando la mia ciotola? E' la tua ciotola? No, scusami Devo chiedere scusa C'era mia postazione Gli abbiamo fregato Gli abbiamo fregato Gli abbiamo fregato Alla... Scusatela Scusatela In pratica all'interno di questa crema da barba Come in tutte le produzioni estro Abbiamo il... Vieni più indietro Il cocco Indietro più indietro Il cocco Il burro cacao E all'alù di calendula Ok Per questo hai una consistenza maggiore della schiuma Ok In pratica pochissima presenza d'aria Cremosità massima E vedo la profumazione esplode praticamente di fragolo ai altri sentori comunque E' complessa Decisamente Decisamente E' venuta bene Mi bagno un attimo il viso E' giusto per avere un po' di idratazione E vediamola no? Il ciucco è fantastico eh Molto bello Esplode veramente L'olfatto di questo MDL7 Sunrise Senti Quando sarà disponibile questo Guarda Adesso siamo Questo set E Mauro è venuto gentilmente all'inaugurazione del locale Per cui siamo un po' sotto sopra Presumo entro Domani Nel pomeriggio di domani riusciremo a caricare Ok Il sito I set che avanzeranno dopo l'inaugurazione Ok Possiamo avvisare I clienti eventualmente Prima di metterlo in vendita Oppure come facciamo? Io conto Di riuscire a metterlo dopo la mezzogiorno di domani Ok Dopo mezzogiorno di domani Dovrebbe essere caricato sul sito Il 18 novembre Sia questo che l'altro set Ok Creato proprio per l'inaugurazione del locale Quindi carissimi La recensione di questo MDL nuovo A questo punto di Neroardesia Che c'è a gentile Su il pennello E abbiamo fregato Sul posto Perché non avevo il pennello Il termina qui E lo trovate da domani In pratica Questo sunrise Ciao Donato Io ti ringrazio Grazie a te ma Ho il treno tra 45 minuti Meglio che ti sciacqui Se no non ti fanno salire in treno Con la barba bianca Eh Ciao amici Ciao ragazzi Ciao Ciao alla prossima Ciao